Buongiorno a tutti, bentrovati cari amici lettori della biblioteca di Cernusco sul Naviglio. Io sono Monia Farina, la nutrizionista che legge, e vi saluto a nome di Parola Merenda, un progetto all'interno di Bibliofly della biblioteca di Cernusco sul Naviglio. Io resto a casa e in questo periodo vi volevamo confortare con qualche pillola di lettura per suggerire magari qualche idea per nuove letture, per confronto su letture che avete fatto, per il mio punto di vista assolutamente arbitrario e parziale su alcuni consigli di lettura. Oggi vorrei raccontarvi alcuni libri di poesie. Siamo abituati a pensare che le poesie sono quelle noiose che imparavamo a scuola a memoria, e in realtà anche quelle sono molto belle ma forse le abbiamo affrontate male o le abbiamo ai tempi imparate a memoria, cantilenate senza ricordarci e non ci rimane più niente di tutto quello. Ci sono anche delle nuove forme di poesia, un po' più creativa, un po' meno rigida, non incastrate nella metrica e che magari sono un po' più fruibili, un po' più leggibili anche da noi, diciamo così, anche da un pubblico curioso ma meno affezionato magari alla poesia. E volevo raccontarvi oggi di un piccolo viaggio all'interno delle poesie di autori assolutamente contemporanei e che anche vivono vicino a noi. Il primo di cui vi racconto è il mio amico Paolo Agrati, il libro La poesia, le poesie che vi consiglio. Oggi sono quelle del libro Amore e Psyco. Io sono quella delle pronunce che non esistono. Vi ne leggo un pezzettino giusto per farvi capire il clima e come scrive Paolo. Ogni tanto ancora piango, ogni tanto ancora piango quando una parola, un segno, una canzone, un angolo diviso diventa acuto come un suono, quando una strofa in una frase mi scopre fragile. Piango così, senza una ragione apparente, come se un pugno strizzasse il cuore, come se il dolore fosse una fontana dalla quale un veleno sprizza nel lavandino dello stomaco. Piango perché sei come una spina, un osso, un grano di sabbia conficcato sotto la pelle che talvolta si muove, ma ti porto addosso, cucita, sferzata, impressa, perché è mischiata alle lacrime. La gioia di saperti ancora lì da qualche parte. C'è la gioia alla fine, piange ma c'è la gioia. Le poesie sono molto divertenti, come vedete scritte in un linguaggio assolutamente fruibile. Paolo Agratti ha in Brianza, fai dei reading di poesie molto divertenti. Lui è proprio un personaggio, cercatelo sui social, ma se avete voglia seguitelo perché fa veramente ridere. E dà la possibilità di avere un altro sguardo un po' sulla poesia. Idem, Francesca, Francesca Genti, di cui oggi vi presento Poesie d'amore per ragazze kamikaze. E vabbè, hai detto tutto nel titolo. Questo è un altro libro sulla poesia, di poesie, come si fanno oggi le poesie. Vi leggo solo un pezzettino, ve ne leggo solo una che mi piace molto. Tutto ciò che succede è maestoso. È tutto illuminato di bianco abbacinante. Cucire un bottone alla camicia. Cambiare casa. Andare a mangiare al ristorante. Giocare a carte. Bere veloce una bibita gassata. Aspettare la 60. Aspettare l'inverno. Guardare il sole o un film noioso. Avere incubi, pensieri disturbanti, premonizioni, crisi nervose. Tutto quello che succede è maestoso. È tutto azzurro. Non esistono le piccole cose. E vabbè. Ci può far pensare, pensare parecchio. Alcune di queste cose le possiamo fare a casa. Magari adesso siamo a casa e ci stiamo annoiando perché pensiamo che non succede niente di straordinario. Stiamo facendo qualcosa di straordinario. Stiamo salvando noi stessi e tutti gli altri stando a casa. Non esiste niente di ordinario. Come dice Francesca, tutto quello che succede è maestoso. Ce n'è un altro. Molto divertente. Lui non lo conosco. Si chiama Francesco Sole. E il libro si chiama Ti voglio bene. Come vedete forse vi ho portato un sacco di libri a tema amore ma ne abbiamo bisogno in questo periodo ma ne abbiamo bisogno sempre nella vita. Vabbè, torniamo alle poesie. Il libro si chiama Ti voglio bene. Hashtag poesie. Taggatelo se avete voglia. E ve ne leggo una che si chiama proprio Ricordati di essere felice. Ricordati di essere felice. Che cos'è la felicità? La felicità è in tante cose. La felicità è quando sorridi e non te ne accorgi. È la tua canzone preferita che capita casualmente in radio. È un caffè con un'amica. È un incontro imprevisto che diventa una passeggiata. È qualcuno che guardandoti capisce tutto. Senza che tu gli abbia detto niente. È un abbraccio affettuoso che arriva alle tue spalle. È un messaggio inaspettato al momento giusto. Oggi abbiamo i video messaggi e tante di queste cose le possiamo fare online e a distanza. Ma c'è dentro la felicità anche in queste cose. E anche in queste poesie di Francesco Sole. Ricordiamo, si chiama Ti voglio bene. È importante. L'altro poeta che scrive e impacchetta i libri nella carta del salumiere quasi. La carta del pane. Si chiama Guido Catalano. È il titolo anche stavolta. Abbiate pazienza ma li ho trovati tutti così nella mia libreria. Ti amo ma posso spiegarti. Ed è sempre un poeta di oggi. Guido Catalano è abbastanza famoso. Scrive poesie che si leggono in fretta. Che si leggono bene. E che sono... Mi viene da dire moderne. Ma mi sembrano un beccabolo un po' arcaico. Comunque molto contemporane. Quindi ve ne leggo un pezzettino giusto per farvi capire il clima. Non ebbi la prontezza. Ho provato a scrivere una poesia che ti scioccasse. E non ce l'ho fatta. Ho provato a scrivere una poesia che ti eccitasse. E non ce l'ho fatta. Ho provato a scrivere una poesia che ti spaventasse. Una che ti commuovesse. Una che ti rallegrasse. Una che ti malincolisse. Una che ti ringalluzzisse. Una che ti allarmasse. Una che ti sconquassasse. Una che ti ammansisse. Una che ti perplimesse. Una che ti innamorasse. E non ce l'ho fatta. Queste sono anche... Fanno proprio ridere alcune. Già nel titolo. Ti amo ma posso spiegarti. Se vi piacciono le letture brevissime. Molto piene di sapore. Come se fossero dei piccoli bocconcini. I piccoli assaggi. Guido Catalano. Anche lui è pazzesco. L'altro libro che ho sempre di poesia di Guido Catalano invece si chiama Sono un poeta cara. Ed è del genere di qui sopra. Quindi io spero di avervi un po' incuriosito. Se avete letto delle cose che vi piacciono fatecele sapere. Se avete letto questi libri e vi sono piaciuti e non vi sono piaciuti fatecelo sapere. Scrivete i post nel gruppo o con l'hashtag io resto a casa e leggo con la biblioteca. Se avete delle idee e volete sapere o leggere qualcos'altro fatemi sapere. E intanto buone letture. Io resto a casa. Restate a casa anche voi. Andrà tutto bene. Ma squadra.